Viviamo in un mondo sempre più ricco di tecnologia, facilmente a portata di mano all'interno delle nostre case, ma gli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche ed elettroniche non sono eterne, quando si rompono o diventano vecchie richiedono di essere smaltite in modo corretto. Proprio per questo Confartigianato Tanato ha organizzato un seminario presso la Camera di Commercio per discutere della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, un seminario tecnico che ha riscontrato una grande partecipazione tra installatori di impianti e riparatori di elettrodomestici desiderosi di essere in regola con le normative di settore. In un'ottica di aggiornamento abbiamo deciso per quanto riguarda gli impiantisti della provincia di Taranto che fanno parte della Confartigianato di aggiornare per quanto riguarda appunto il discorso sui rifiuti, come eventualmente smaltire i climatizzatori, le caldaie che man mano vengono sostituiti. La gestione corretta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è diventata ormai un obbligo da parte dei distributori, degli impiantisti nella corretta gestione dello stesso. È bello vedere che questi incontri avvengano in Camera di Commercio, è bello vedere l'attenzione dei nostri installatori, dei nostri artigiani sulle problematiche dei rifiuti elettronici. Il seminario è stato moderato dalla segretaria generale di Confartigianato Taranto Fabio Paolillo.